La predestinazione spazza via tutto quello che l'uomo possa fare o voglia fare. Quello che noi facciamo, allora, le cose che si fanno si possono fare per due motivi. O perché il Dio te le ha ordinate e cerchi di farle, o perché ti aspetti un premio, capite? Cioè, ci sono quelli che fanno le cose, ad esempio, al lavoro, no? Al lavoro uno può lavorare o perché lo vede il padrone e quindi vuole essere premiato, o perché sa che quello è il suo lavoro, lo fa, cerca di farlo bene, indipendentemente se lo guardano oppure no. Indipendentemente se lo pagano di più, se lo premiano, niente. Cioè, lo fa perché lo deve fare. La predestinazione fa appunto questa distinzione, cioè, chi crede nella predestinazione spazza via tutte le opere, non c'è niente che l'uomo possa fare per essere gradito a Dio. È chiaro che poi ci sono gli altri passaggi che dicono, che parlano, che ci dobbiamo santificare, eh, questo sì. Però qui stiamo riferendo all'ottenimento della salvezza. Ottenere la salvezza non si ottiene per nessuna opera, nessuna opera. L'uomo non la può comprare in nessuna maniera, con nessuna opera. Quindi, quindi è così, cioè, la dottrina della predestinazione spazza via tutti gli uomini, praticamente. La volontà degli uomini li spazza completamente via e lascia soltanto spazio alla volontà di Dio. Ma anche perché, anche perché non sarebbe possibile il contrario, perché è dimostrato. Sto facendo una premessa, eh, dopo parliamo dei passaggi che ho deciso di citare dopo. Però, voglio dire, rimaniamo già in tema. Cioè, è dimostrato. Ho riflettuto tanto sul fatto che Adamo e Eva, quando peccarono, peccarono essendo puri, quindi non avevano ancora la corruzione, no? La corruzione di cui purtroppo siamo macchiati noi oggi, quella corruzione della carne, Adamo e Eva non ce l'avevano, non ce l'avevano, capite? Quindi, Adamo e Eva non avevano quella corruzione. Quindi, il modello di Adamo e Eva, perché lo prendo? Perché è il modello che più si avvicina alla possibilità del libero arbitrio, capite? Io dico si avvicina perché sappiamo che nulla dipende dall'uomo o dagli esseri che Dio ha creato. Tutto dipende da Dio. Allora, però, se noi dobbiamo prendere il modello che più si avvicina al libero arbitrio, che è a quello che uno potrebbe scegliere, no, liberamente, è appunto Adamo ed Eva. Ma, cosa è successo? È successo che sono stati sedotti. Anche Eva fu sedotta e poi Adamo pure mangiò di quel frutto. Caduto il modello più vicino al libero arbitrio, immaginiamoci ora, prendiamo ad esempio tutti gli altri. Che cosa hanno di diverso da Adamo ed Eva tutti gli altri uomini, compresi noi? Abbiamo, come è scritto in Romagna, ai primi capitoli, la corruzione della carne. Cioè, dentro l'uomo c'è quella corruzione che lo spinge continuamente a peccare. Quindi, diciamo, tutti gli uomini sono in una situazione molto peggiore e diversa di cui erano Adamo ed Eva. Perché Adamo ed Eva non erano contaminati da nessun peccato. Cioè, loro erano puri in quel momento, prima di peccare. Si sono contaminati peccando, appunto. Sono corrotti e sono morti spiritualmente. Quindi Adamo ed Eva erano vivi, oltre che materialmente e fisicamente, erano vivi anche spiritualmente. Infatti, dice Dio, quando gli ha dato il comando, gli ha detto «Quel giorno che ne mangerete per certo morrete». E ciò è avvenuto. Però il Dio non si stava riferendo alla morte fisica. Perché? Perché la loro vita è continuata. Quindi quel giorno non sono morti Adam ed Eva, ma bensì sono morti spiritualmente. Sono morti spiritualmente. Erano vivi spiritualmente. Quindi, quando hanno preso la decisione di commettere il peccato, erano in una condizione di purezza, di purità, che l'umanità, dopo di loro, non ha avuto mai. Quindi la posizione è molto più svantaggiosa dei discendenti di Adamo ed Eva, per quanto riguarda il poter scegliere il bene. Capite? Qui si tratta di essere in grado di scegliere il bene e non il male. Ma non è possibile questo, perché in Romani è scritto che tutti gli uomini sono corrotti, non cercano il Dio, sono sviati, riescono a fare solo il male. Quindi sono morti nei falli e nei peccati. Anche i credenti, benché siano stati rigenerati spiritualmente, rimangono in una condizione comunque critica, diciamo così, pericolosa e critica, perché il peccato continua ad albergare il loro. Però a noi ci interessa la prima parte, che è quella prima della nuova nascita, perché chi è nato di nuovo è aiutato dallo Spirito di Dio. Quindi si parla in termini di predestinazione e in modo particolare per coloro che sono nati di nuovo, per quelli che nascono di nuovo. Allora, per quelli che nascono di nuovo, diciamo, dobbiamo individuare chi è che pone la volontà, di chi è la volontà se una persona nasce di nuovo oppure no. E questo è il punto cruciale. Quando uno nasce di nuovo, perché è nato di nuovo? Perché l'ha voluto lui, o come diciamo noi, come dice la predestinazione, o l'ha voluto il Dio soltanto. Se prendiamo, ad esempio, la volontà dell'uomo, questa volontà, immaginatevi voi, cioè se già Adam e Eva, che erano puri, non sono riusciti a evitare il peccato, figuriamoci, e quindi sono morti, figuriamoci quando uno è già morto. Come fa a scegliere il bene? Come fa a scegliere Cristo? Come fa a scegliere la vita se è morto? Ecco perché c'è bisogno dell'intervento dello Spirito di Dio. Quando entra dentro quella persona, rivive spiritualmente, perché è lo Spirito che vivifica. Lo Spirito vivifica. E, diciamo, fa credere. Quella persona in cui lo Spirito Santo opera, gli fa credere al sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Quindi non è neanche lui che da solo crede, ma è lo Spirito Santo, operando in lui, gli fa credere, no? Infatti c'è scritto in Giovanni XVI che convince il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quindi convince. E lo Spirito Santo è convincente. Perché? Perché opera dall'interno del cuore. Opera dall'interno dell'uomo. entrando dentro di lui lo convince di essere un peccatore. Lo convince che ha bisogno di un Salvatore per essere salvato e questo Salvatore è Cristo Gesù. E poi lo convince che è passato dalla morte alla vita e non sarà giudicato. E tutti quelli che non nascono di nuovo rimangono morti spiritualmente. E quindi tenete sempre presente perché vedete come quelli, gli arminiani, no? Quelli che non credono nella predestinazione, che credono piuttosto che si è salvati per la volontà dell'uomo. E allora quelli che non credono nella predestinazione, che vogliono credere che la salvezza dipenda dall'uomo, questi infatti si concentrano, non tengono conto non tengono conto appunto che l'uomo essendo corrotto e morto nei falli e nei suoi peccati non ha la forza in se stesso di rigenerarsi spiritualmente. Capite? Cioè, un morto non ha la forza di rivivere. Non so se... È uguale perché è così, è come un morto fisico, non ha la forza lui da solo di risuscitarsi. Semmai può essere risuscitato da Dio, certamente può essere risuscitato da Dio, ma non si può risuscitare da solo. E così vale anche spiritualmente. Spiritualmente nessun uomo è in grado di risuscitarsi, di rigenerarsi spiritualmente da solo. Non è possibile, cioè, è proprio... È una legge spirituale, è come se fosse fisica, cioè, è così. Tutto quello per dire, se lanci una pietra in alto, questa torna per terra, perché la forza di gravità, che è una costante, attira di nuovo la pietra e la fa scendere di nuovo giù per terra. È così, questa regola che è immutabile, no? Immutabile è la regola quella di Dio, dico, perché riguarda la salvezza e la predestinazione. La regola di Dio che è immutabile è questa, cioè, che è Dio che salva. Poi c'è anche il fatto il fatto che prendendo in considerazione, no? Considerando gli uomini, se prendiamo ad esempio il Adamo ed Eva, quando hanno peccato erano in una condizione di purità assoluta, cioè, non conoscevano il peccato. Quindi, la loro carne non era corrotta, spiritualmente erano vivi. È bastata una seduzione, è bastata il maligno che li ha sedotti e hanno commesso il peccato. Il peccato è la trasgressione dei comandamenti di Dio, quindi, l'ordine fu dato da Dio di non mangiare di quel frutto e, avendo trasgredito, hanno peccato. Il peccato ha portato alla morte spirituale. Questa morte spirituale di questi genitori ha fatto in modo che tutta la morte spirituale scendesse a tutti i discendenti. Ecco, qui si applica ancora la regola del secondo comandamento del decalogo che dice appunto che il peccato dei padri ricade sui figli, quindi è impossibile che questo comandamento non si debba considerare in questa maniera perché già dall'inizio è stata applicata questa regola. Il peccato dei padri è ricaduto sui figli, quindi il peccato di Adam ed Eva è ricaduto su tutti i loro discendenti. Uno ha peccato e tutti sono morti. Però è altresì vero che uno ha compiuto le opere giuste, ha compiuto le opere giuste che sappiamo che ha compiuto Gesù Cristo, uno quindi è riuscito per volontà di Dio perché Egli era vero uomo e vero Dio, ha compiuto tutte le opere che bisognava compiere e attraverso quelle opere l'opera di Cristo tutti hanno vita, hanno vita quelli che naturalmente credono in Lui e sono stati scritti nel libro della vita. Quindi questo è il momento, abbiamo parlato della situazione della salvezza, della difficoltà che un uomo possa essere salvato, possa essere salvato attraverso la sua stessa volontà. E poi abbiamo parlato appunto dell'intervento che c'è bisogno che intervenga lo Spirito Santo per poter rigenerare spiritualmente. Ma adesso c'è un altro punto pure. L'altro punto è che i nomi sono già stati scritti, addirittura sono già stati scritti. Sono stati scritti quando? Il momento è importante perché il momento in cui è stato scritto il libro nel quale sono scritti i nostri nomi tutti i nomi di coloro che che appunto degli eletti che sono stati rigenerati spiritualmente questo libro la scrittura dice che è stato scritto fin dalla fondazione del mondo quindi prima della fondazione del mondo i nostri nomi erano scritti in quel libro in quel libro diciamo in quel libro di Dio che è nei cieli sono stati scritti i nomi. Ora è stato scritto quel libro ragionando su quel libro cosa vediamo? vediamo che non tutti gli esseri umani non tutti i nomi degli esseri umani sono stati scritti in quel libro quindi solo una piccola parte solo un certo numero ora essendo che Dio ha scritto solo un certo numero di persone e gli altri no non li ha scritti è chiaro che qui ha fatto una scelta e Dio ha fatto una scelta già l'ha fatta prima della fondazione del mondo ma e poi i romani leggeremo anche questa scelta non l'ha fatta tenendo conto di come ci saremo comportati perché badate bene cambiando diciamo il momento di scrivere il libro non cambierebbe il fatto che Dio sapeva che avremmo fatto queste opere oppure ci scrive nel momento in cui abbiamo fatto determinate opere quella in particolare mi riferisco a quella di credere no di credere con tutto il cuore che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e che il terzo giorno è stato risuscitato quindi il momento in cui il libro è stato scritto è importante è importante perché è stato scritto prima che gli uomini facessero alcunché di bene e di male appunto a significare è stato scritto in quel momento come conferma ulteriore che è stato scritto senza tenere conto senza tenere conto delle opere ma sono stati scritti dei nomi perché il Dio ha voluto che quei nomi fossero salvati quelle persone fossero salvati è stato deciso tutto già prima della fondazione del mondo è già stato deciso tutto quindi noi cosa dobbiamo fare ci dobbiamo soltanto sottomettere alla volontà di Dio il Dio vuole un popolo a lui sottomesso cioè vuole che vuole farsi conoscere vuole il Dio vuole farsi conoscere il Dio vuole farsi conoscere per quello che realmente è per colui che governa di tutto ha il controllo quindi egli si presenta com'è realmente siamo noi uomini che dobbiamo capire qual è la nostra posizione qual è la nostra la nostra situazione e qual è la nostra posizione nei riguardi nel rapporto con Dio non è che Dio è al nostro servizio non è Dio ad essere al nostro servizio ma siamo noi semmai che dobbiamo servire il Signore non è che il Signore serve noi cioè non è che noi gridiamo e Dio è pronto lì a servirci quindi noi siamo a tavola e lui è il servitore no noi semmai siamo i servitori a tavola c'è qualcun altro ma noi siamo quelli che dobbiamo servire quindi ecco la nostra posizione con il Signore la difficoltà la difficoltà la difficoltà che c'è è appunto è appunto questa cioè di arrendersi completamente di annullare tutta la propria personalità la propria persona il proprio io il proprio orgoglio la propria superbia annullare tutto per dare tutta la gloria a Dio e questa è la predestinazione perché l'elezione la dottrina dell'elezione di Dio chiamata anche predestinazione da tutta la gloria a Dio non ti lascia niente a te spazza via tutto quello che può andare a beneficio dell'uomo quindi a favore dell'uomo e quindi spazzando via tutto ecco che rimane solo tutta la gloria va a Dio perché se viene spazzata tutta la gloria che poteva essere data all'uomo rimane solo tutta la gloria che può essere data solo solo a Dio è questo e quindi la dottrina della predestinazione state attenti perché taluni la mettono in questa maniera ma tanto non è questa dottrina che salva ma tanto diciamo di Dio siamo fratelli lo stesso siamo fratelli chi è stato rigenerato spiritualmente da Dio è nostro fratello indipendentemente se segue o non segue la parola però se è nato di nuovo è nostro fratello ribelle magari però è sempre fratello quelli che non sono nostri fratelli sono quelli tutti quelli che non sono stati rigenerati spiritualmente che non sono nati di nuovo ecco questi questi non sono non sono nostri fratelli questi che sono nati di nuovo sono nostri fratelli e sono nati di nuovo non per loro non per la loro volontà non sono nati per la loro volontà non siamo tutti noi nati di nuovo perché l'abbiamo voluto ma siamo nati di nuovo perché Dio lo ha voluto e Lui lo ha deciso lo ha voluto e lo ha fatto a suo tempo ognuno nella sua generazione cioè il Dio il Dio ha ordinato il Dio ha ordinato già prima della fondazione del mondo tutti quelli tutti quelli che ha già ha già dato l'ordine ha già dato un ordine che è quello che i nomi i nomi che sono scritti nel libro della vita siano salvati quest'ordine è già uscito cioè lo ha scritto ha scritto nel libro della vita il suo ordine cioè scrivendo il nome in quel libro egli ha stabilito ha dato l'ordine quindi che quella persona sia salvata nella stessa maniera se qualcuno non è un nome non è stato scritto nel libro della vita se non è stato scritto significa che non sarà salvato non può essere salvato perché? perché Dio ha dato l'ordine capite? è Dio che ha già dato l'ordine quelli che non sono scritti nel libro della vita sì noi dobbiamo evangelizzare tutti annunziamo l'Evangelo ce la mettiamo tutta preghiamo per loro perché questo ci è comandato di fare e questo dobbiamo fare perché noi non conosciamo chi è scritto e chi no quindi stiamo parlando di qualcosa che ne disconosciamo i nomi di chi però diciamo il concetto è quello allora il concetto è quello che quando Dio ha scritto dei nomi e ne ha saltati altri ha fatto la cernita egli ha deciso ha fatto una scelta questi non sono ordinati a vita eterna mentre gli altri sì quelli che sono scritti nel libro della vita sono ordinati a vita eterna e questo è il fatto e questo dà tutta la gloria a Dio perché non si nasce di nuovo per volontà d'uomo ma si nasce di nuovo solo per la volontà per la volontà di Dio volevo leggere insieme a voi esaminare insieme a voi qualche passaggio biblico anche questa era la premessa era una premessa questa un'introduzione ad alcuni ragionamenti e quindi e quindi è così dicevo sulla predestinazione dicevo che alcuni la attaccano cioè la attaccano cercando di dire come la attaccano dicendo dicendo di Dio che è ingiusto che se fosse così è ingiusto e invece invece non è così perché se colui che fa le regole no colui che detta le regole le detta come vuole lui non è ingiusto come fa a essere ingiusto cioè un ingiusto da che cosa si distingue un ingiusto si distingue per dire se Dio avesse detto che quello che fa il bene il Dio lo benedice quello che fa il male lo maledice se Dio benedicesse colui che il fornicatore è l'adultero e maledicesse colui il santo è il giusto ecco in quel caso il Dio sarebbe ingiusto capite perché ingiusto sarebbe perché nella scrittura noi leggiamo che Dio benedice benedice aiuta colui che teme il Dio e fugge il male invece prende nella loro astuzia i superbi e i malvagi gli empi capite cioè questo è scritto no questa è la regola se Dio facesse il contrario di quello che lui stesso ha stabilito allora sarebbe ingiusto non ci sarebbe giustizia non sarebbe un'opera buona quella che Dio fa perché romperebbe una stessa regola che ha stabilito capite invece la regola che Dio ha stabilito è questa che Dio salva chi vuole e Dio salva chi vuole e indurisce chi vuole una volta che Dio ha stabilito questa regola e la mantiene ma non può essere tacciato d'ingiustizia in nessuna maniera capite cioè non ci sono i presupposti per dire che Dio è ingiusto non ci sono assolutamente quindi quindi coloro che contrastano la dottrina della predestinazione cercano perché perché cercano di allontanarci dalla dottrina della predestinazione fanno leva su una famosa parola chiamata giustizia che noi ci teniamo ad essere giusti allora vogliono far passare il Dio cioè vogliono far passare odiosa quella dottrina della predestinazione odiata dagli uomini come una dottrina ingiusta quindi per allontanare i credenti da questa dottrina cercano di diciamola la difamano la attaccano la screditano così i santi ignoranti perché quelli che conoscono le scritture si presume che non si allontanino dalla verità ma i credenti ignoranti si allontanano da questa dottrina perché il pastore ha detto che è una dottrina malvagia addirittura vanno in giro a dire che chi crede nella predestinazione sono posseduti dai demoni ma capite quanto è avversata questa dottrina all'adultero e al fornicatore non lo riprendono se tu in certe comunità invece parli parli della predestinazione gridano contro di te dicendo che sei il demonio in persona capite loro sono ingiusti non Dio loro che diciamo fortificano le mani dell'empio del fornicatore dell'adultero e abbattono le braccia del giusto che annunzia la verità loro sono ingiusti loro sì perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la giustizia non ne hanno e attaccano la dottrina che è scritta in tantissimi esposta nella parola la dottrina della predestinazione è tra le dottrine di cui si parla di più nelle sacre scritture ma perché perché fanno parte la dottrina della predestinazione fa parte della sovranità di Dio e la sovranità di Dio è una cosa presente dovunque nelle sacre scritture quando Dio comanda quella cosa avviene e questo è il concetto principale la sovranità di Dio quindi la predestinazione non è altro che è la manifestazione sugli uomini della sovranità di Dio cos'è la predestinazione quindi è la manifestazione della sovranità di Dio sugli uomini questo è la sovranità la predestinazione cioè che Dio nella sua sovranità quindi nella sua autorità di poter scegliere ha scelto quelle persone che devono essere salvate e ha scelto anche quelle persone che non possono non devono essere salvate perché non devono essere salvate semplicemente perché lui ha deciso di non salvarle non è che non sono salvate per chissà quale motivo perché il motivo principale è che non sono scritte nel libro della vita quindi non possono essere salvate adesso se noi leggiamo che poi sono passaggi che voi avete letto è riletto è sentito è dibattuto però io li voglio ricordare perché bisogna anche ricordare al capitolo 13 praticamente l'apostolo Paolo cosa ha fatto? è andato andava in giro ad annunziare l'Evangelo ad Antiochia di Pisidia annunziò l'Evangelo molte persone l'ascoltarono insomma lo vollero ascoltare e dopo che ascoltarono il messaggio di Paolo ecco che leggiamo quindi queste parole capitolo 13 versetto 48 di Atti degli Apostoli e i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero quindi la situazione era questa a quell'epoca che poi è la situazione che si ripete dovunque quindi prendiamo ad esempio le situazioni avvenute nel passato perché poi sono quelle che si ripercuotono che si ripetono continuamente per tutte le generazioni non cambia capite quindi prendiamo una consideriamo una ma ogni volta che si evangelizza le cose stanno così quindi qui dice vedete i gentili udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti badate bene queste parole queste parole ve le dovete segnare perché queste le dovrete sempre ricordare anche a memoria atti 13-48 è uno di quei passaggi che dovete sempre sapere a memoria ripetere trovare subito e ricordare anche a memoria perché questo è un passaggio che gli arminiani attaccano maggiormente addirittura le assemblee di Dio in Italia hanno cercato di modificarne la traduzione di questo passaggio cosa ci fa capire tutto questo attacco verso questo passaggio biblico che poi è tradotto bene è tradotto bene così tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credetelo il greco è così qui non si sbaglia il greco qui non ci sono problemi di antichi manoscritti diciamo problematiche varie che possiamo trovare in altri passaggi qui non c'è nessun tipo di problematica in questo passaggio biblico va bene storicamente i linguisti quelli che hanno studiato il greco quelli che hanno tradotto non c'è nessun problema qua è tradotto perfettamente perché se non fosse tradotto perfettamente allora avremmo dovuto discuterne cioè non avremmo potuto utilizzare questo passaggio però siccome è tradotto bene e gli avversari lo attaccano fortemente ecco quindi che ecco quindi che è conveniente per noi conoscerlo bene per poterlo poi esporre perché è tra i passaggi che dà più fastidio è proprio una spina nel fianco è qualcosa che non riescono cioè perché è così chiaro questo passaggio sulla predestinazione è così è di una chiarezza così disarmante per gli avversari è di una chiarezza così disarmante che lo vogliono modificare perché così si capisce troppo come tradotto si capisce troppo cioè ci sono dei passaggi biblici che io non ho compreso perché sono figurativi sono difficili ci hanno qualcosa che io non riesco a comprendere ma ce ne sono tanti altri che si capiscono perfettamente e questo sulla predestinazione atti 13-48 è uno di quei passaggi che si capisce chiaramente perfettamente cioè non lascia proprio ombra di dubbi da solo già getta luce su tutta la predestinazione anche soltanto questo passo ma non è da solo perché nelle scritture è pieno di altri passaggi che confermano l'elezione di Dio la predestinazione e questo passaggio cosa dice? dice che allora c'erano i gentili che ascoltarono il messaggio dell'Evangelo di Pao va bene? una parte di questi si convertì fu salvata entrò diciamo nella vita eterna una parte soltanto di questi gentili va bene? e qui Luca dice parlando di questa quota di questa parte di persone di questo numero di persone che diciamo erano stati salvati le definisce in questa maniera tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credetero cioè come abbiamo accennato prima Dio quando scrisse il libro della vita lo scrisse prima della fondazione del mondo e quello è un ordine è già un ordine il Dio prima della fondazione del mondo ha dato l'ordine di quali erano i nomi di quelli che si dovevano convertire di quelli che si sarebbero convertiti e avrebbero fatto parte del popolo di Dio il Dio quindi ha già ordinato ha già ordinato prima della fondazione del mondo cioè ha dato l'ordine verso coloro che si sarebbero dovuti convertire l'ordine era già uscito prima della fondazione del mondo qui Luca quindi dicendo quelli che erano ordinati a vita eterna capite quelli che erano ordinati si sono convertiti quelli invece che non erano ordinati cioè che non erano iscritti nel libro della vita non si convertirono capite capite perché è così devastante questo passaggio biblico per gli arminiani per quelli che non credono nella predestinazione perché perché questo chiarisce moltissimi aspetti è scritto così chiaramente cioè questo passaggio dice in poche parole che Dio ha ordinato la vita eterna e quando è venuto il momento li ha pure salvati ma l'opera la compie Dio la traduzione in greco originale appunto quello che vuole trasmettere la traduzione è che è Dio che compie l'opera ed è questo che si capisce chiaramente e quindi chi ha cercato di manipolare quel passaggio cosa fate ha cercato di invertire i poli ha cercato di invertire l'azione cioè non era più Dio che faceva l'azione ma erano gli uomini che si convertivano avete capito hanno invertito perché quando Pietro dice che ci sono quelli che torcono le scritture torcevano le scritture di Paolo le lettere di Paolo ma anche tutte le altre scritture cioè ci sono quelli che adulterano annacquano quelli che torcono le scritture le cercano di modificare o nella stessa traduzione o mettendo delle notte nelle Bibbie quindi vi dico questo finché stiate attenti alle Bibbie che avete perché se avete Bibbie annotate sappiate che c'è un pericolo lì vi possono dire cose giuste ma vi possono dire anche cose sbagliate quindi siete rischiati quando studiate le scritture studiate le scritture quando studiate anche le note lì c'è un rischio perché vi stanno spiegando le scritture ma ve le stanno spiegando a modo loro se le spiegano se le spiegano bene correttamente allora voi imparate anche dalle note ma se ve le spiegano in modo sbagliato voi state deviando dalla verità capite quindi è importante sapere quale Bibbia stai leggendo come strutturata come formata quali sono i passaggi biblici c'è la parte che costituisce la vera parola di Dio e qual è la parte aggiunta invece dagli uomini quindi dovete capire bene cosa leggete cosa avete nelle mani quando leggete questo studio lo dovete fare voi dovete conoscere la versione che leggete dovete conoscerne anche i punti deboli perché così non rimarrete svergognati davanti a nessuno che tutte le versioni purtroppo solo l'originale iniziale era perfetta adesso le traduzioni le versioni successive purtroppo hanno sempre qualcosina che magari le differenzia però questo anche questo è utile perché perché Dio in ogni maniera vuole vuole dirci di stare in guardia in tutte le cose dobbiamo stare in guardia però tutto sommato la versione Luzzi Diodati diciamo sono delle ottime traduzioni sufficienti anche senza studiare greco ebraico sono sufficienti per capire qual è la volontà di Dio perché lo scopo di studiare le scritture è quella di conoscere qual è la volontà di Dio verso noi e di conoscere tutte le cose che riguardano la vita la vita eterna sono sufficienti non deviano dalla verità sono tradotte bene quindi vedete in atti 13-48 è tradotto bene quindi il significato è proprio questo quelli che erano ordinati a vita eterna credettero cioè proprio fa una distinzione chiara qua la scrittura tra quelli che non erano ordinati e quelli che erano ordinati poi se andiamo a vedere quello che dice il passaggio chi è che aveva ordinato a vita eterna ma lo aveva ordinato il Dio prima della fondazione del mondo quando aveva iscritto già il libro il libro della vita il libro della vita eterna quindi questo passaggio è molto importante da ricordare questo è dei passaggi che bisogna citare quando incontriamo questi gli arminiani praticamente quelli che non credono nella predestinazione la predestinazione l'ho detto all'inizio forse qualcuno ancora non c'era la predestinazione quella dottrina che dà tutta la gloria a Dio ecco perché è avversata dai massoni e dalla gente carnale e poi proprio i carnali quelli che più si dedicano al peccato sono proprio quelli poi che difendono che vanno contro la predestinazione vedete il paradosso gli opposti uno che avrebbe piacere sarebbe nel vantaggio di dire la predestinazione che salva i peccatori questi malvagi questi peccatori invece dicono addirittura che dipende da loro e non fanno niente per ottenerla perché se ci credessero perché a parole lo dicono ma se ci credessero loro i peccatori non si comporterebbero in quella maniera io parlo dei credenti i credenti si definiscono credenti e vanno contro la predestinazione e poi sono carnali se credessero con tutto il loro cuore veramente che dipendesse dalla loro vita dal messaggio dal messaggio dalla loro evangelizzazione e dalla loro condotta praticamente non peccherebbero cioè non si darebbero non li troveremo al mare a prendere il sole in costumino in mutande e reggiseno non li troveremo in certi posti non li troveremo a fare chiacchiere inutili in certi posti ma li troveremo sempre ad evangelizzare in ogni luogo proprio questi che non credono nella predestinazione li troveremo li dovremmo trovare in ogni angolino continuamente senza cessare mai se non ci fosse la predestinazione quindi vedete si contraddicono le loro azioni poi alla fine le azioni degli arminiani contraddicono addirittura quello che cioè le loro condotta contraddice poi quello che dicono con la bocca però per tornare al passaggio quindi abbiamo visto quelli che erano ordinati a vita eterna quelli per indicare che c'erano anche altre persone che non rientravano tra quelli prendiamo adesso un cavallo di battaglia di questi arminiani che tutti ci citano Giovanni 3.16 adesso abbiamo visto abbiamo parlato di atti 13.48 ma adesso parliamo di Giovanni 3.16 che usano praticamente rispondono con questo passaggio e pensano di aver chiarito tutto gli arminiani quelli che che non credono nella predestinazione 3.16 il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna quella parola chiunque vuole dire qualunque persona chiunque crede in lui qualunque persona ma non vuole dire che tutti credono in lui non vuole dire che che la salvezza è aperta a tutti quindi danno danno a questo passaggio a questo passaggio biblico danno un significato che non ha questo questo passaggio questo Giovanni 3.16 vuole solamente dire che la salvezza è aperta potenzialmente a tutti chiunque crede però poi dopo noi dobbiamo approfondire e andare a capire secondo le scritture chi sono quelli tra chiunque che poi credono in Cristo Gesù per essere salvati chi sono e cosa succede in loro perché avvenga la salvezza prima erano morti e poi diventano vive vengono vivificati dallo spirito di Dio quindi questo passaggio dice che c'è ci fa sapere che c'è la possibilità di essere salvati perché perché l'uomo è perito va bene tutti gli uomini sono morti nei loro falli e nei loro peccati questo passaggio riabilita l'umanità in genere e dice che nell'umanità in mezzo a tutta l'umanità ci sono quelli ci sono quelli che che sono ordinati appunto a vita eterna ma sono quelli che saranno salvati ecco quindi che tra i chiunque i chiunque che crederanno in Gesù Cristo ci sono quelli che sono ordinati a vita eterna vedete se voi vedete i due passaggi se voi vedete i due passaggi biblici insieme capite che tra quei chiunque sono compresi solamente solamente quelle persone che che sono ordinate a vita eterna non tutte indistintamente capite quelli che vogliono loro chi vuole no qui dice una cosa che va vista poi alla luce di altri passaggi biblici perché qui ci fa sapere ci dà delle informazioni ma non approfondisce in questo passaggio chi c'è tra i chiunque non sono tutti quindi che vengono salvati quindi bisogna fare una cernita bisogna capire chi sono quelli che credono in Cristo e noi abbiamo letto appunto un esempio è solo un esempio in atti 13-48 che a credere in Gesù Cristo e a ottenere la vita eterna sono quelli che sono ordinati ordinati a vita eterna da Dio prima della fondazione del mondo quando Dio ha scritto il libro il libro della vita vedete in tutto questo ragionamento cioè il libero arbitrio non esiste non c'è non si vede da nessuna parte non si vede non c'entra non c'entra ma rimanendo ancora in Giovanni rimaniamo ancora in Giovanni io vi sto citando solo qualche passaggio ma ce ne sono tanti dopo ne vediamo qualcuno in Romani ma adesso vediamo in Giovanni quindi stiamo parlando del momento il momento della salvezza il momento della salvezza è il momento della nuova nascita quando si nasce di nuovo si viene salvati avviene per mezzo della fede in Gesù Cristo che è lo Spirito Santo che ha messo nel cuore dell'uomo avviene la purificazione dei peccati perché quell'uomo che ha creduto nel sacrificio compiuto da Cristo il suo sacrificio il sangue che è stato sparso nella croce agisce in lui nella sua anima purificandolo da ogni peccato nel momento in cui nasce di nuovo ecco perché è importante la nuova nascita avviene in quel momento una vita nuova una rigenerazione è in quel momento che avviene la purificazione dei peccati quindi questa nuova nascita è importante esaminarla dal punto di vista di chi è che la genera com'è che l'uomo fa a ottenere questa nuova nascita da chi dipende la nuova nascita qual è la volontà soprastante tra tutte le altre che diciamo permette all'uomo di essere salvato e queste sono le questioni che quando si studia si studia la dottrina poi si devono ci si deve fare delle domande approfondire per arrivare ad una ad una conclusione che deve essere biblica però la conclusione deve essere biblica cioè deve essere confermata dalle sacre scritture quindi ora andiamo a leggere in Giovanni 1 12 e 13 Giovanni 1 12 e 13 anzi dal versetto 11 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio parlando della nuova nascita qui Giovanni dice appunto queste parole cioè parlando di quelli che hanno creduto in Gesù Cristo sono quelli che sono nati da Dio dice qui infatti dice non sono nati da sangue vedete la negazione non sono nati da sangue né da volontà di carne cosa vuol dire questo che non si può ottenere la salvezza per discendenza di sangue o discendenza di carne o discendenza di un popolo cioè non è che gli ebrei sono salvati perché discendenti dal loro padre Abramo dai loro padri di origine ebraica capite non è non è per questo tipo di discendenza che si viene salvati non è dalla discendenza della carne di sangue addirittura guardate cosa dice qui né da volontà d'uomo non è neanche non dipende neanche dalla volontà dell'uomo vedete cioè quando ricordatevi che quando quando vi dicono quando vi diranno o vi hanno detto e vi dicono che dipende dalla volontà dell'uomo è falso perché qui Giovanni nel Vangelo di Giovanni sta scritto che non dipende dalla volontà dell'uomo la nuova nascita la salvezza assolutamente no quindi non è dalla volontà dell'uomo anzi qui viene rimarcato viene rimarcato dopo viene detto ma sono nati da Dio quindi sono nati dalla volontà di Dio nascono di nuovo siamo nati di nuovo e nasceranno di nuovo i posti credenti quelli che per la volontà di Dio si nasce di nuovo per la sola volontà di Dio la volontà dell'uomo è completamente esclusa neanche una piccola percentuale entra a far parte della salvezza perché se no sarebbe sempre un merito sarebbe sempre un'opera che l'uomo ha compiuto per ottenere la salvezza un'opera che fa la differenza tra l'essere salvati e il non esserlo capite anche se un ago è l'ago della bilancia anche se un ago è piccolo come un ago fa da ago della bilancia appunto che segna la differenza tra l'essere salvati per la sola volontà di Dio e l'essere salvati invece per la nostra volontà e questo è escluso è escluso perché le scritture ci dicono chiaramente che Dio ha ordinato quelli che doveva salvare le ha già ordinati prima della fondazione del mondo poi ancora poi spiegando in altri passaggi qui ad esempio la nuova nascita dice che si nasce di nuovo per volontà di Dio non si nasce di nuovo per una volontà dell'uomo ma si nasce di nuovo solo esclusivamente per la volontà di Dio quindi non c'è da nessuna parte il liber arbitrio apparentemente talvolta ci sono qualche leggero passaggio che potrebbe sembrare ma no ma è perché poi bisogna dargli una spiegazione perché tutti i passaggi vanno visti sempre alla luce anche di tutti gli altri passi biblici che non devono contrastarsi capite cioè devono avere un significato che non contrasta con gli altri quindi abbiamo visto qui che la nuova nascita è prodotta prodotta dallo Spirito Santo per volontà di Dio quindi quindi non è per volontà dell'uomo che si è nati di nuovo che si nasce di nuovo l'Apostolo Paolo che queste cose vi ricordate che in Galati ha scritto che lui ha ricevuto l'Evangelo direttamente da Cristo Gesù non l'ha imparato dagli uomini quindi Cristo ha ammaestrato l'Apostolo Paolo per le cose che poi dopo noi leggiamo le cose con cui ha ammaestrato tutte le chiese e con cui noi oggi siamo ammaestrati quindi per quanto riguarda questa dottrina della predestinazione vediamo cosa ha capitato l'Apostolo Paolo e quindi dobbiamo andare al capitolo 9 di Romani citiamo qualche passaggio perché se li leggiamo tutti approfonditamente capitoli non solo il 9 ma 9 10 e 11 di Romani capitolo 1 di Efesini e poi tanti altri passaggi biblici sparsi in tutte le scritture ad esempio per tornare a qualche passaggio citato in Giovanni ad esempio c'è scritto che Gesù dice nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attiri vedete quindi c'è sempre una volontà di Dio per quanto riguarda la salvezza nessuno può venire a me se non è il Padre che lo attiri non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi dice Gesù ai suoi discepoli quindi vedete anche qui vedete la scelta la scelta viene sempre da Dio l'opera l'opera compiuta per quanto riguarda la salvezza viene sempre da Dio cioè l'uomo è il destinatario la situazione le posizioni sono queste che Dio è il datore colui che dà la salvezza e l'uomo è il destinatario della salvezza non fa niente per ottenerla lui è un destinatario passivo cioè la riceve e basta senza potersi opporre o senza poterla ricevere prima o per la sua volontà quindi l'uomo è un destinatario morto diciamo più passivo di un morto non c'è nessuno ecco quindi i morti spirituali ricevono la vita ricevono una vita spirituale che prima non avevano e questa viene da Dio esclusivamente da Dio e l'uomo non fa niente non può fare niente per riceverla dal Signore quindi ora andiamo in Romani al capitolo 9 e leggiamo qualche passaggio esaminiamo così qualche passaggio ci sarebbero da leggere tanti passi ma oggi erano questi questi tre quattro passaggi che mi sono sentito in cuore di trasmettervi ad esempio capitolo 9 versetto 8 leggete qui il versetto 8 che il versetto 8 si diciamo spiega spiega cosa vuol dire la discendenza di carne in Giovanni 1 12 13 infatti dice 9 8 di Romani cioè non i figlioli della carne sono figlioli di Dio infatti si diventa figlioli di Dio per volontà di Dio non per volontà dell'uomo e neanche per discendenza carnale capite quindi vedete qui anche Paolo sapeva che non si diventava non si diventava figlioli di Dio perché lo si voleva o perché si era ebrei di nascita capite o perché si faceva parte di una famiglia o di un popolo o si è figli di un pastore no i figli di un pastore di un conduttore i figli di un profeta non è che sono salvati perché sono discendenti carnali di quel di quel ministro di Dio no sono salvati se Dio li ha ordinati a vita eterna e se credono se credono nel Signore nostro Gesù Cristo poi a suo tempo il Dio li salverà è lui che opera è il Signore che opera in loro non perché sono discendenti carnali e qui l'Apostolo Paolo lo dice chiaramente al versetto 8 dice non i figlioli della carne sono figlioli di Dio capite non i figlioli della carne non gli ebrei cioè gli ebrei sono un popolo che Dio si è scelto e che comunque Dio benedice è chiaro ma per quanto riguarda la vita eterna e la salvezza quelli se non si convertono come ci siamo convertiti noi se non sono nati di nuovo saranno scaraventati all'inferno anche se sono ebrei non c'è differenza tra giudei e greci tra schiavi e liberi tra uomo e donna questo è il significato di questo passaggio che non c'è differenza tra uomo e donna giudei e greci schiavi e liberi per quanto riguarda la salvezza non c'è differenza tra l'uomo e la donna alcuni citano questo passaggio adesso apro questa parentesi alcuni citano questo passaggio che riguarda strettamente la salvezza per dire vedete non c'è differenza tra uomo e donna così anche la donna può pasturare può compiere il ministerio del pastore e del dottore nella chiesa ma quel passaggio non ha quel senso di dire che l'uomo e la donna sono uguali in tutto vuole solamente dire che la salvezza che Dio largisce agli uomini sia se siano uomini sia se siano donne è la stessa cioè la salvezza che Dio dà la dà uguale all'uomo e alla donna non ci sono differenze non ci sono differenze la salvezza per quanto riguarda invece il compito e gli incarichi di servire di servire all'interno di una chiesa e lì poi dobbiamo andare a vedere altri passaggi biblici non quello quello serve a definire la salvezza ma per quanto riguarda gli altri passaggi biblici noi vediamo che alla donna non è dato di insegnare quindi non può assumere non può assumere l'ufficio di vescovo neanche il ministerio dove è previsto l'insegnamento della parola quindi vedete si deve guardare sempre la somma della parola si deve capire il contesto del passaggio e non lo si deve estrapolare e portare dove ci piace a noi il passaggio e fargli dire quello che vogliamo noi i passaggi biblici vanno visti nel loro contesto e con il loro significato quindi non dobbiamo essere di quelli che torcono le scritture ci accusano a noi di estrapolare i versetti biblici per farne un pretesto come quella famosa frase ma non siamo noi quelli che strappano i versetti dal loro contesto sono loro stessi che gli vogliono dare un significato un significato strano che in realtà non hanno quindi tornando a Romani leggendo ancora vediamo in Romani al versetto 11 in Romani 9-11 dice poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama le fu detto il maggiore servirà il minore secondo che è scritto ho amato Giacobbe ma ho odiato Esau l'Apostolo Paolo conosceva la dottrina della predestinazione conosceva quello che Gesù insegnava lo conosceva anche Paolo e guardate cosa dice qui conosceva anche le scritture sacre Paolo e citando le figure che ci sono anche negli antichi scritti citando le scritture la legge e i profeti Paolo vedete dice queste parole dice che prima quindi vedete il tempo è importante prima che fossero nati prima che Esau e Giacobbe fossero nati il Dio aveva già scelto tra i due tra i due il Dio tra Esau e Giacobbe il Dio scelse uno dei due scelse Giacobbe ma quando lo scelse lo scelse nel momento in cui vide le loro opere li scelse guardando le loro opere no perché qui lo dice chiaramente l'Apostolo Paolo che Dio ha preso le sue decisioni senza guardare alle opere guardate bene che Dio vede le opere anche prima che avvengano quindi le conosceva le opere ma qui questo sapendo anche questo l'Apostolo Paolo qui Paolo dice dice prima che prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male vedete quindi dice prima che fossero nati prima addirittura che avessero fatto alcunché di bene o di male quindi quindi non dipendeva da quello che Giacobbe o Esau hanno fatto o avrebbero fatto perché guardandolo dal punto di vista del prima prima della fondazione del mondo quando fu scritto il libro della vita diciamo la scelta è stata fatta prima prima che avessero fatto alcunché di bene di male quindi Dio non ha guardato alle opere che hanno compiuto questi due Esau e Giacobbe ma il Dio ha voluto scegliere e qui lo spiega Paolo guardate cosa dice affinché questa affinché cosa vuol dire la parola affinché al fine di allo scopo di quindi Dio prima della fondazione del mondo aveva scelto già Giacobbe e non Esau senza guardare alle loro opere e per quale motivo poi introduce quell'affinché introduce il motivo per il quale il Dio ha fatto in quella maniera e il motivo è questo affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio il proponimento dell'elezione di Dio è un altro modo di chiamare la predestinazione cioè il proponimento vuol dire la decisione che Dio ha preso in sé senza essere influenzato da nessuno esteriormente quello che Dio si è proposto quello che Dio ha pianificato quello che Dio ha disegnato ab antico dall'antichità lui l'ha portato a compimento lo porta a compimento lo porta a compimento questa parola proponimento vuol dire appunto questo proponimento dell'elezione e leggere vuol dire scegliere quindi la decisione che Dio ha preso nell'eleggere le persone nello scegliere le persone le ha decise con le caratteristiche che ha citato poco prima Paolo senza guardare le opere prima in un tempo molto antico prima che nascessero prima che nascessero possiamo dire anche prima della fondazione del mondo perché il libro della vita è stato scritto prima della fondazione del mondo vuol dire che i nomi erano già stati segnati la decisione il proponimento di Dio si è manifestato nel momento in cui ha scritto il libro della vita prima della fondazione del mondo ma poi continuando Paolo dice dice ancora affinché che dipende quindi il proponimento dell'elezione di Dio cioè la scelta che Dio ha fatto dei nomi delle persone che lui avrebbe salvato guardate che dipende quindi questa scelta che Dio ha fatto dobbiamo dire che Dio non che Dio fa ma che ha fatto perché la scelta l'ha già fatta e Dio ha già scritto il libro della vita dice che dipende non dalle opere vedete non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama vedete di nuovo viene rafforzato ancora il concetto che quello che conta per quanto riguarda la salvezza è la volontà di colui che chiama colui che chiama è Dio fratelli la volontà di colui che chiama è Dio è la volontà di Dio perché si nasce di nuovo non per volontà d'uomo vi ricordate in Giovanni ma per la volontà di Dio si nasce di nuovo si diventa figlioli di Dio non per la volontà dell'uomo ma per la volontà di Dio e qui Paolo ancora lo ripete e lo chiarisce ancora che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama le fu detto il maggiore servirà il minore quindi mi sembra che io sto soltanto spiegando quello che c'è scritto in italiano io non mi sto inventando niente voi potete leggervi passaggi biblici con un dizionario un vocabolario di italiano in mano perché io non sto portando nessuna novità con il mio parlare io non sto portando novità io sto dicendo sto esplicando sto spiegando quello che in italiano c'è scritto non mi sono inventato nulla non proviene nulla da me io non ho ricevuto nessuna cosa diversa se non la comprensione di quello che c'è scritto letteralmente in questi passaggi ci tengo a dirlo perché le cose stanno così e a Dio deve andare tutta la gloria quindi qui diciamo non sto portando niente di nuovo non sto portando niente di nuovo ma sto soltanto spiegando con diverse parole è quello che letteralmente c'è scritto per confermare quello che letteralmente è scritto non per darne un significato contrario o diverso ma andando avanti leggiamo vedete vedete al versetto 14 dice che diremo dunque cioè avendo già annunciato il proponimento dell'elezione di Dio l'Apostolo Paolo già già ha capito già sapeva perché sicuramente c'erano anche allora quelli che contrastavano ma guardate cosa scrive che diremo dunque è forse ingiustizia in Dio ecco qui torniamo a quello che vi dicevo prima il Dio non è ingiusto ma perché Dio ha stabilito già le regole che doveva seguire e le segue non è ingiusto non può essere tacciato di ingiusto perché di ingiustizia perché non lo è ha stabilito le regole e le sta mantenendo quindi non può essere ingiusto qualcuno le regole le deve dare è bene che le dia Dio non l'uomo cioè non è che l'uomo adesso detta le regole a Dio semmai è Dio che ha detto tutte le sue regole all'uomo e poi le mantiene le mette in opera e qui dice così non sia vedete non è ingiusto il Dio ma no ma quindi già sapeva da qui si capisce che già sapeva Paolo guidato ispirato dallo Spirito Santo a scrivere queste parole perché perché già sapeva che sarebbero venuti gli schernitori quelli che avrebbero tacciato Dio di essere ingiusto se fosse stato presentato la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio già sapeva tutto il Signore capite e così avviene ancora oggi quindi non c'è nessuna ingiustizia in Dio poiché egli dice a Mosè vedete perché aveva già stabilito aveva detto a Mosè ad esempio io avrò mercè di chi avrò mercè e avrò compassione di chi avrò compassione voglio dire più chiaro di così le regole sono state stabilite da Dio cioè Dio voleva dire con queste parole Dio salva chi vuole e indura chi vuole come dopo è spiegato in un passaggio successivo e Dio fa quello che vuole cioè salva chi vuole e indura chi vuole questo ha stabilito il Signore queste regole si ha dato e queste lui mantiene quindi non è ingiusto in maniera assoluta anzi egli è giusto sono gli uomini bugiardi e malvagi ma lì Dio è santo ed è giusto andando avanti al versetto 18 quindi 9-18 leggiamo così dunque egli fa misericordia a chi vuole vedete ancora spiegato che Dio salva secondo la sua volontà a chi vuole lui chi vuole lui questi chi vuole lui sono rientrano anche in quei chiunque chiunque crede in lui come è scritto in Giovanni 3-16 chi sono quei chiunque chi fa parte di quei chiunque quelli che Dio vuole salvare come è scritto qui al versetto 18 chi vuole egli fa misericordia a chi vuole quindi ai destinatari della misericordia di Dio i destinatari della misericordia di Dio fanno parte di quei fanno parte quindi di quei chiunque di Giovanni 3-16 quelli che sono destinatari della salvezza della salvezza di Dio quindi non dipende dall'uomo poi dice ancora vedete egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole non solo il Dio opera nell'aborbidire qualcuno il proprio il cuore e salvarlo ma è di opera anche inversamente su taluni quindi agisce in modo da indurarli indurare i loro cuori quindi vedete fa la doppia azione io l'ho voluta definire la la doppia predestinazione nel senso che rivolta ai soggetti sia quelli salvati che quelli che invece sono destinati ad essere perduti ad andare in perdizione che poi lo vediamo in qualche passaggio ancora che leggeremo a conferma quindi Dio ha stabilito già chi va in perdizione e chi invece viene salvato guardate il versetto 19 no? perché Paolo si fa domanda e risposta qui perché perché lo sapeva che ci sarebbero state persone che avrebbero contraddetto e guardate come risponde tu allora mi dirai vedete mi dirai si fa la domanda no? allora ci sono quelli che avrebbero detto perché si lagna egli ancora cioè cosa vuol dire questa domanda questi qui no? che infatti che poi è il concetto che molte volte ci espongono a noi che in in maniera diciamo con poche parole è concentrato in questo passo ci sono quelli che dicono ma se Dio ha già stabilito tutto perché non chiude la faccenda no? e chi è salvato è salvato e chi finisce tutto cioè che senso ha no? dicono se è già stabilito tutto perché vivere questi momenti perché trascorrere tutte queste cose se è già stabilito tutto e qui perché egli si lagna ancora infatti poi dice ancora poiché chi può resistere alla sua volontà se nessuno può resistere alla volontà di Dio perché così è nessuno può resistere alla volontà di Dio abbiamo letto che è la volontà di Dio che Dio salva quelli che secondo che ha deciso secondo la sua volontà quindi nessuno potendo resistere alla sua volontà ecco che egli salva chi vuole quindi ci sono quelli che replicano ci sono quelli che replicano con queste parole con certi ragionamenti insensati simili a questi che replicano verso contro Dio e contro chi diciamo proferisce contro chi insegna la dottrina della predestinazione diciamo replicano e gli dicono appunto queste cose perché gli agisce ancora perché chi può resistergli quindi perché le cose vanno avanti come se Dio non ci fosse non operasse se invece è lui che opera tutto queste sono diciamo le obiezioni maggiori che poi sollevano gli anti quelli che non credono nella predestinazione ma Paolo guardate la risposta che dà a questi Paolo ispirato dallo spirito santo piuttosto o uomo chi sei tu che replichi a Dio cioè ma se Dio vuole fare quello che vuole ma chi sei tu che gli devi dire a Dio che è ingiusto che perché fa così perché fa cosà non fa e non può fare egli quello che vuole infatti poi lo spiega Paolo la cosa formata dirà essa a colui che la formò perché mi facesti così il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per uso non nobile e un altro per uso ignobile e che v'è mai da replicare se Dio volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria li ha anche chiamati parlo di noi non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili quindi vedete prende l'esempio Paolo del vasaio che è un mestiere che tutti i popoli hanno conosciuto nei secoli quando sono state presi delle figure dei paragoni è chiaro che non poteva prendere si parlava magari di carro e non di automobile perché l'automobile anticamente non si conosceva mentre oggi noi il carro lo conosciamo anche se abbiamo le automobili capite le figure che vengono prese dalla scrittura sono di solito figure che possono essere capite da tutti i popoli e da tutte le generazioni perché questa era la problematica diciamo nello scrivere la parola essere compresa nelle figure da tutti da tutte le nazioni da tutti i popoli e anche da tutte le generazioni dei vari secoli e qui l'Apostolo Paolo ha preso il vasaio quale figura migliore non so se avete mai visto a me mi piace molto vedere le foto della ruota che gira e si si costruiscono i vasi e i vasi vengono come l'autore li vuole fare se li vuole stretti escono stretti se li vuole larghi escono larghi se li vuole rigati escono rigati cioè però li può stringere e allargare come gli pare a lui il vasaio fa quello che vuole del vaso praticamente e l'Apostolo Paolo usa appunto questa figura conosciuta per indicare questo che Dio è il vasaio e noi tutti gli uomini sono dei vasi il vasaio ha i vasi egli fa i vasi come vuole ci sono i vasi ad esempio ci sono i vasi che dice al versetto 22 ha sopportato ci sono dei vasi diciamo dal versetto 22 e che vengai da replicare se Dio volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta longanimità dei vasi d'ira preparati per la perdizione vedete ci sono dei vasi preparati per la perdizione come abbiamo letto prima sono stati preparati prima prima capite prima già dalla fondazione del mondo e questi vasi sono stati preparati sono stati progettati per andare in perdizione e così è scritto non è che io sto leggendo quello che sta scritto che piaccia o non piaccia agli arminiani a tutti quelli che magari li seguono ma le cose stanno scritte in questa maniera quindi Dio ha sopportato quindi questi vasi li ha sopportati pazientemente con la longanimità dei vasi d'ira diciamo destinati a d'ira dei vasi che devono andare a finire in perdizione e così il Dio ha stabilito e ancora e ancora dice poi parla degli altri vasi no? e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria li ha anche chiamati quindi gli altri vasi invece ci sono i vasi destinati alla perdizione e i vasi invece alla gloria anche quelli Dio ha innanzi preparati li ha preparati innanzi erano già tutto era già tutto preparato da Dio e non si può replicare nulla queste parole perché Dio fa quello che vuole se Dio è il vasaio e noi siamo i vasi siamo i vasi e gli fa quello che vuole dei suoi vasi e gli è il vasaio e fa quello che vuole non è che ci chiede a noi cosa vuole cosa vogliamo che che lui faccia semmai noi dobbiamo chiedere a lui che egli ci faccia faccia qualcosa ma non che lui chiede a noi e questo era diciamo il messaggio che oggi non pensavo di portare ma alla fine diciamo si è acceso un fuoco dentro di me a riguardo della predestinazione perché con voi mi sembra che ancora ne avevo accennato ma non ne avevo parlato in questa maniera quindi quindi ho voluto non so adesso se tutti voi credete nella predestinazione però se qualcuno non ci crede farebbe bene a mettersi lì in ginocchio a studiare le scritture tutti i passaggi che parlano della predestinazione per impararli bene per chiedere sapienza a Dio e poterli intendere questo se c'è qualcuno che non li ha intesi gli altri che l'hanno inteso invece focalizzate i passi principali almeno non potete ricordarvi magari tutti i passaggi non me li ricordo neanche io ma focalizzare due tre quattro passaggi fondamentali per la predestinazione questo sì è importante perché perché voi siete chiamati qualora se ne richieda la necessità a parlare ai fratelli ad annunziare loro la predestinazione che magari soprattutto se la contrastano perché siamo chiamati a dire la verità per il bene dei fratelli e badate bene che la predestinazione è una dottrina strettamente connessa alla salvezza per grazia senza le opere quindi è strettamente connessa perché non credendo nella predestinazione praticamente c'è un'opera di mezzo l'opera che dicono questi arminiani che dicono che è quella che l'uomo ha voluto da lui stesso per una certa percentuale credere quindi c'ha quest'opera in più degli altri che invece non credono invece non è così non c'è nessuna opera ma quello che noi diciamo invece è questo che Dio ha già stabilito quelli che deve salvare e li salva quando viene il loro tempo così noi leggiamo nelle scritture e così noi insegniamo agli altri a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amè grazie a tutti